E' fuori, l'è finita, la Juve è fuori, è fuori, è una Juve sbagliata, una scelta sbagliata, un allenatore sbagliato, una campagna acquisti sbagliata, probabilmente una dirigenza sbagliata, è fuori, è fuori la Juventus dalla Coppa, è fuori dalla Champions e Ronaldo il suo l'ha fatto, uno non può dire chi dice ah ma abbiamo preso Ronaldo e diamo 30 milioni a Ronaldo, anche questi 30 milioni che la Juventus dà a Ronaldo, Ronaldo il suo l'ha fatto, ma dare 30 milioni a un giocatore a 34 anni, 33 anni, ma che Juve è? Ma questa è la fine della Juve, è finita, la Juve è finita, cioè gli Juventini parlavano male di Allegri, Gli Juventini parlavano male di Allegri che con due rape si era andato a prendere due finali di Coppa Campioni, di Champions League, vabbè aveva Pirlo, po' va, aveva Mandzukic, perché Mandzukic è stato mandato via? C'è tutto sbagliato, una Juve tutta sbagliata, completamente sbagliata, anche stasera una Juve che faceva girare le palle, 6 minuti, 6 minuti e 20 di recupero, un rigore che non lo so da dove l'hanno preso, cioè basta, basta e ha vinto il campionato, ha vinto un campionato così, così perché gli altri non ci hanno creduto, ma la Juve è fuori, questo Sarri è fuori, un uomo di sport che ancora ti fuma le sigarette e che deve stare lì col pezzino, non è bello neanche da vedersi, per i bambini, cioè è tutta sbagliata sta Juve, era tutta sbagliata sta Juve, fuori 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 fuori, via via via, fuori fuori fuori, ti fiamo Napoli, ti fiamo Atalanta, ti fiamo Inter, la mia Inter, ti fiamo che siamo in Europa, siamo in Europa, fuori fuori fuori, ho preso qualche appunto, mamma mia che bello, ok beh, mi devo calmare, mi dispiace per Neschio, mi dispiace per Neschio, a me dispiace per questo ragazzo, Neschio, sapete, l'altro youtuber, sarà là, giustamente triste, uno Juventino così, Juventino sarà sicuramente triste, sarà sicuramente triste, davvero, mi dispiace per Neschio, comunque, veramente ragazzi, troppi giocatori, la Juve, parliamo seriamente, parliamo seriamente senza sfottore, la Juve, troppi giocatori, cioè Rabiot, Ramsey, De Ligt, troppi giocatori messi lì, ma che non fanno anima, anzi, l'unico che può fare un po' di anima è stato De Ligt, ma sicuramente Rabiot, Ramsey, giocatori che non si è capito, vi ricordate, all'inizio anno, quando ne parlavamo, non si capiva perché erano stati presi, non si capiva perché erano dentro, quindi vuol dire che anche a livello dirigenziale, paratici, questa campagna acquisti l'hanno sbagliata, ragazzi, non si può uscire con Lione, settimo campionato francese, cioè non si può uscire con Lione, non stai uscendo col Paris Saint Germain, non stai uscendo col Bayern di Monaco, stai uscendo con... cioè, e già l'avevi preso dalla Lazio, in Supercoppa, l'avevi preso dal Napoli, in Coppa, cioè è tutta sbagliata, è tutta sbagliata, il gioco di Sarri, Sarri, molti non lo sanno, ma è il gioco che faceva il Napoli, era il gioco che aveva ereditato da Benitez e da Mazzarri, era quel gioco lì che tuttora ancora il Napoli produce, questo gioco arioso, gioco bello, gioco con passaggi veloci, tutti erano convinti, ma Sarri lo farà alla Juventus, Sarri neanche al Chelsea aveva portato qualcosa di suono al tavolo. Ragazzi, fuori, siete fuori, fuori, out, game over, fuori, ragazzi, un po' di soddisfazione, un po' di soddisfazione, un po' di soddisfazione, perché anche questo campionato, vi ricordate Juventus-Atalanta, tutti quei rigori, c'è anche oggi il rigore sul pallo di mano, l'unica cosa è la fiammata, l'ha data Ronaldo, questa fiammata che dà Ronaldo, adesso Ronaldo se ne va nello spogliatoio, guarda gli altri, lui si sta zitto, si sta zitto e secondo me dentro di sé pensa, porca miseria, mi sono voluto a perdere due anni qua, però allo stesso punto due anni qua con 30 milioni, cioè con 30 milioni, Ronaldo doveva essere la carta per superare queste partite. Higuain, Higuain un altro, Higuain fu preso dal Napoli, fu preso dal Napoli per superare queste partite, è imbolsito, l'ho visto un po' ingrassato, corre poco, è lì sempre a aspettare l'occasione che forse verrà, no ragazzi, brutta, brutta Juve, brutta Juve, brutta Juve. Comunque, tanto per gustarci, il signor Antonio Conte con la mia Inter è in Europa, è in Europa l'Atalanta, che a quanto pare la danno quarto o quinta favorita, è in Europa ancora il Napoli, che giocherà col Barcellona, però è in Europa, e non è in Europa la Juve, non è più in Europa la Juve, quindi ragazzi, se per voi juventini, se volete tifare, tifate Inter quest'anno in Europa, perché c'è l'Inter in Europa, capito? Quindi tifate l'Inter, perché tanto, tanto, avete vinto tanti campionati in Italia, vabbè, sappiamo, sappiamo tutto e tutti, le avete vinte in Italia, però dopo in Europa non avete vinto niente, niente, gli ultimi a vincere qualcosa abbiamo stati noi, però una cosa così, una cosa da interista, dai, una cosa da interista, mi dispiace, io sono un interista interista, non è che sono un interista che faccio finta di essere interista, io sono un interista interista, e quindi mi dispiace, mi dispiace per la Juventus, che devo fare, che devo fare, no, comunque, parlando invece agli juventini, quelli meno tifosi, quelli che sono un po' più sportivi come me, vi dico, con tutta franchezza, con tutta franchezza, visto da fuori, visto da fuori a Juventus, è stato davvero questo mosaico di giocatori, non è stato messo su bene, vi ricordate, la Juve voleva venderlo, Di Bale era stato dato al Tuttenham, tutte queste cose, tutta una campagna acquista, è l'origine di questa Juventus che era sbagliata, comunque, fuori, 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 ogni tanto si va fuori, cavolo, tra gli ottavi con il coglione, beh, 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 detto questo, ragazzi, iscrivetevi, un like, mettete un like nei miei video, perché ogni like è un colpo di fortuna, ogni like è un fiore, vi arrivano fiori dalla vita, quindi iscrivetevi, mettete un like, un like, un fiore, campanella se siete iscritti, commentate, mi immagino che ci sarà qualche Juventino che commenterà, ci sta, ci sta, ci sta, detto questo, ragazzi, ovviamente questo canale è ritornato qui nella base, per adesso si parlerà tanto di Inter, perché l'Inter è in Europa, di Napoli, perché in Europa, Atalanta, perché in Europa, non si parla più della Juventus, scherzo, vabbè, ciao ragazzi, alla prossima, iscrivetevi, ciao ciao!